Buongiorno e benvenuti a questo podcast di Liturgia Musea Sagrada Aurelio Porfiri. Come sapete oggi è morto il cardinale Angelo Sodano che era stato segretario di Stato con Giovanni Paolo II e poi anche nei primi tempi di Benedetto XVI. Allora io voglio fare un ricordo di Sodano nel senso che sembrerà strano perché non è considerato un cardinale vicino a quelle posizioni che io spesso esprimo nei miei scritti e nei miei libri. Ma in effetti è solo un ricordo di quando io ero uno degli organisti nella Basilica di San Pietro e Sodano era il segretario di Stato. Quindi diciamo sotto Giovanni Paolo II e mi ricordo questo cardinale molto massiccio quando veniva a celebrare le messe. Io ho suonato per diverse messe da lui celebrate per varie occasioni adesso non ricordo tutte le occasioni ma ricordo che lui insomma era senz'altro una persona cordiale, molto piemontese, in senso molto anche austero ecco non era particolarmente espansivo ecco questo mi sembra di ricordarlo. E lui certamente rappresenta un po' quel mondo di sotto Giovanni Paolo II, anche un mondo molto contestato da certi punti di vista. Insomma il suo ruolo per esempio nella vicenda dei legionari di Cristo oppure i suoi rapporti nel Cile di Pinochet. Insomma ci sono tante cose che sicuramente potrebbero essere discusse a riguardo di Sodano. Un ricordo forte che io ho di lui è quando lui celebrò il funerale del mio maestro, il cardinale Domenico Bartolucci. Quella ovviamente per me fu un'occasione dolorosa e lo fu anche per il modo in cui si svolse quel funerale. Io non ho un buon ricordo di quel funerale, insomma io credo che il maestro Bartolucci non doveva essere stato molto contento con lui che insomma per tutta la vita ha sostenuto la messa tridentina, cosiddetta tridentina, insomma quella messa lì in Novo Sordo, poi insomma pure i canti che furono scelti mi sembra insomma di quelli del maestro Bartolucci. Mi ricordo soltanto fu cantato un convivio, ma poi forse mi sono sfuggiti altri del maestro, ma insomma non lo so, fu un'occasione in cui probabilmente lui avrebbe meritato molto di più. E celebrò Sodano che mi è rimasto impresso perché durante, mi sembra l'Omelia, sbagliò il nome di Bartolucci, lo chiamò Bertolucci, ancora questa cosa mi è rimasta impresa. Non perché magari fu un lapsus, perché sicuramente lo conosceva, aveva partecipato anche a un concerto in onore del maestro Bartolucci, quindi si sapeva bene chi era, poi lui era il decano del collegio cardinalizio a quel tempo, quindi sicuramente sapeva. Però mi ricordo in quell'occasione insomma lì all'altare della cattedra a San Pietro e quella fu una delle, la prima occasione, credo anche l'ultima, in cui ho visto il Papa Francesco dal vivo e non l'ho mai visto prima né dopo, in quell'occasione venne per fare le ultimi riti, perché in precedenza i funerali dei cardinali erano celebrati dal Papa. Mi sembra con lui, non credo con Benedetto XVI, ma con lui invece no, i funerali vengono celebrati, non so, dal decano del collegio cardinalizio e poi il Papa viene per fare gli ultimi riti. Quindi quella fu l'unica occasione in cui lo vedi da lontano ovviamente, relativamente lontano poi, perché all'altare della cattedra, insomma, qualche decina di metri, poi non l'ho più visto. Comunque, ripeto, sicuramente il cardinale Sodano va affidato alla misericordia di Dio, è stato un uomo di grande potere e adesso ovviamente su di lui ci sarà il giudizio degli storici, visto che la sua esistenza è conclusa. Il giudizio degli storici non è un giudizio inappellabile, anche perché poi, come sapete, anche la storia non è neutrale, però, insomma, vediamo come affronteranno la figura di questo cardinale che ha sicuramente rappresentato un potere importante sia sotto Giovanni Paolo II, in parte anche sotto Benedetto XVI, ma, insomma, non tanto in parte, perché è un po' come mi viene in mente, scusatemi l'esempio, ma mi viene in mente la figura di Jiang Zemin in Cina, che da tanti anni non è più presidente della Cina, ma che comunque rappresenta ancora un potere nell'interno del governo, anche se lui, teoricamente, è un ex capo di Stato, cioè, lui è anche molto anziano, oltre i 90, e credo così un pochino anche il Cardinal Sodano, cioè, sicuramente ha rappresentato un potere fino a chi ha potuto, perché comunque aveva tutti i suoi legami e contatti, però, ecco, sulla qualità di questo potere penso che sia importante che gli storici, il più neutralmente possibile, indaghino e possano vedere, insomma, qual è stato lo scopo delle sue azioni e quale poi ne è stato il risultato. Se avete un'opinione, ovviamente potete scriverla qua sotto. Intanto vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo podcast.